Un saluto dal Tg della Mobilità al via venerdì 1 aprile, la nuova linea Cotral che collegherà a Tivoli a Roma Anagnina, un servizio attivo in via sperimentale che amplia l'offerta di trasporto dei bus regionali. In totale 4 corse al giorno, 2 in andata e 2 al ritorno, permetteranno agli utenti residenti a Tivoli, Villanova e a Guidogna di raggiungere l'Università e il Policlinico di Tor Vergata sino al nodo di scambio romano di Anagnina. Il percorso si articolerà dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli e confermate a Roma all'Università e al Policlinico di Tor Vergata sino al capolinea di Roma a Anagnina. Dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli dal lunedì al venerdì sono previste due partenze alle 6.30 e alle 9.30, mentre al ritorno due corse partiranno da Roma a Anagnina alle 14.15 e alle 17.30. E tutto appuntamento alla prossima edizione.